Questa mattina il consigliere regionale Michele Gammarano del Movimento 5 Stelle in compagnia di un attivista di Olevano sul Tusciano ha svolto un sopralluogo per verificare alcune segnalazioni su sversamenti nel fiume Tusciano. Nel corso della verifica l'esponente del Movimento Pentastellato ha lanciato l'invito al Ministro Costa di verificare questi corsi d'acqua, il Tusciano ed il Sele. Sì, noi abbiamo ricevuto varie segnalazioni, ma questo nell'arco di qualche mese, sui pericoli ambientali che ci sono anche qui sul Tusciano. Io ricordo che abbiamo due grossi problemi in provincia, uno è quello del Tusciano e l'altro è quello del Sele e per altri versi, in maniera differente, forse un po' più grave per il problema del Sarno. Quindi stiamo facendo una serie di sopralluoghi anche per renderci conto dello stato attuale dei vari fiumi e cercare di intervenire. Ora abbiamo al Ministero, abbiamo Costa, che è una persona molto molto sensibile e attenta ai problemi ambientali e spero che riusciamo a portare avanti una serie di iniziative che possano in qualche modo portare ad origine i nostri fiumi. Il problema è che noi per tanti anni abbiamo inteso i fiumi come degli sversatui, questo non è il fiume vita, va ripristinato con la flora e la fauna che gli competono anche per dare a tutti un ambiente migliore e più salubre. Il Tusciano tra l'altro, per chi non lo sapesse, passa anche per Battipaglia e quindi va rivista bene, vanno fatti controlli su tutto quanto l'iter che il fiume fa. Noi saremo attenti su questo e stiamo cominciando anche con gli attivisti locali, con persone, con i comitati, l'associazione, di capire come sbrogliare la matassa per in qualche modo ridare dignità e legalità a questi luoghi.